Ora si registrerà la conferenza. Grazie Alicia, buongiorno a tutti, sono Davide Sangiorgi, come diceva Alicia sono il manager della rete Iobo. Partirei con i ringraziamenti al CSMT in particolare, Officina Liberty, ai partner AdWords Smart City, Conf Cooperative, Iobo, RG45, Solco Brescia, Consorzio Valli, con il patrocinio della provincia di Brescia e del Comune di Garzoni di Valtrompia, grazie ai quali è stato possibile realizzare questo terzo incontro, che è l'ultimo di una serie di webinar dedicato alle tecnologie IoT e alle applicazioni Smart City e Smart Land. Quindi tutto ciò che ci permette di andare a erogare nuovi servizi ai cittadini, monitorare e gestire attività pubbliche e, perché no, fronteggiare le emergenze come quelle che abbiamo e stiamo vivendo. Ringrazio anche i relatori, i colleghi che parteciperanno, Giancarlo Gervasoni, presidente della rete di imprese Iobo, Stefano Moroni, amministratore delegato della cooperativa Algelso, Elisabetta Rizzi, account manager di Audio Smart City e Alberto Bonetti di CSMT. Partirei lasciando la parola a Giancarlo Gervasoni, che ci racconta dell'esperienza della rete Iobo e di cosa vuol dire fare sistema. Prego Giancarlo. Grazie, benvenuti a tutti anche da parte mia. In pochi minuti provo a raccontarvi o condividere con voi quella che è stata la nostra esperienza di rete d'impresa. Per chi non lo sa, la rete d'impresa non è una società, è un'associazione, è un lavorare insieme tra aziende che esistono nel territorio. Si chiama Iobo, la nostra rete d'impresa, perché siamo partiti dalla cronica di Ionic Bond e c'è un perché di legame ionico, nel senso che nel momento in cui abbiamo deciso di partire con questo progetto non abbiamo solo considerato quelli che erano gli aspetti di, che sono importantissimi, di competenze e di tecnologia, ma abbiamo anche pensato che un legame tra aziende dovesse essere un legame tra aziende che si piacciono. Non tutti gli atomi si uniscono per formare delle molecole. Dobbiamo, e è fondamentale nella nostra rete, avere comunque un modo di pensare, un modo di ragionare, un modo di comportarsi comune che ci identifichi oltre alle nostre competenze. Perché abbiamo fatto questa rete? In realtà per creare e diffondere digitalizzazione, che è un progetto vastissimo, che comprende tantissime competenze molto specialistiche. Fare digitalizzazione oggi è piuttosto complesso. È abbastanza difficile per una singola azienda avere all'interno delle competenze profonde e sapere tutto. Il mercato del digitale è cambiato dall'epoca dei tutologi a un'epoca di super specializzazione. Diventava quindi per noi vitale scegliere se volevamo continuare a essere tutologi e fare comunque dei progetti di livello più basso o diventare effettivamente più efficaci facendo qualcosa di nuovo. Abbiamo scelto questo, ci siamo scelti tra aziende. che hanno un background piuttosto importante, che hanno una serietà, sono presenti sul mercato più o meno tutte da decine di anni. Le aziende che compongono la rete d'impresa sono Fasternet, Gotham City, Gulliver e Zero Group. Ci siamo cercati anche in qualche maniera complementari per non sovrapporre competenze, ma per ampliare la competenza della rete e comunque la conoscenza complessiva di tutto l'insieme. Ci occupiamo di tantissime cose, non tutte ma tante. E magari una breve presentazione di cosa facciamo. Fasternet è un'azienda che esiste da 25 anni, piuttosto conosciuta. si occupa di tante cose, come vediamo nella slide. In particolare si occupa di Cyber Security, di Network, che è l'ambito tradizionale su cui poi è nata la rete. Si occupa di Digital Transformation, però è un ambito abbastanza vasto e ci occupiamo un po' di questo come rete d'impresa. Alle competenze tecnologiche di Fasternet abbiamo pensato, ma come progetto strategico, di affiancare anche delle competenze in ambito di comunicazione. Quindi abbiamo volutamente scelto di andare a inserire nel nucleo iniziale della rete d'impresa Gotham City, che è un'azienda che si occupa, anche questo, con particolare competenza di Digital Communication. Ci può aiutare anche a diffondere meglio il nostro verbo e comunque a raccontare i progetti che stiamo facendo con particolare enfasi e con modalità comunicative dell'ambito digitale. Qui un po' di indicazioni tante di che cosa fa Gotham City. Terza azienda della rete d'impresa è Gulliver, anche questa abbastanza storica, fanno in Fondazione 2000. Gulliver è abbastanza identificabile perché tutto sommato ha un titolo che comprende tutto, si occupa in maniera molto specialistica di mobile app. Quindi Gulliver sviluppa applicazioni che girano normalmente su device mobili, quindi smartphone o tablet, con un numero di installazioni piuttosto importante su tutto il territorio nazionale. Anche qua ci sono alcune indicazioni dei prodotti che poi magari sono stati anche parte dei progetti, in qualche maniera parte dei progetti di cui poi con un dettaglio ulteriore se ne parlerà dopo. Ultima, quella che conosco meglio, visto che oltre ad essere presidente di Iobo, sono anche amministratore delegato di Zero Uniformatica, quindi ultima perché in ordine alfabetico finiamo sempre in fondo, ci siamo noi di Zero Uniformatica, anche noi abbiamo una lunghissima esperienza, anno di fondazione 1990, quindi ci occupiamo tra le tante cose di fornire ai nostri clienti quindi tutta la competenza digitale, ma aiutata da servizi di supporto. La competenza digitale da sola ha bisogno comunque di qualche duno che poi aiuti gli utilizzatori a farla andare, quindi dalla parte di progettazione, alla parte di implementazione, alla parte di gestione di quelli che sono i progetti digitali. Poi operiamo anche noi su buona parte del territorio nazionale con tre sedi, quindi ci occupiamo di questo. Una cosa aggiuntiva che nella presentazione ufficiale della Rete Iobo non c'è, la Rete Iobo è nata per aumentare le proprie competenze e in effetti con un progetto che andrà in attuazione, è già in attuazione e alcuni di questi soggetti sono già all'interno di questa presentazione, abbiamo intenzione di proporre un ecosistema di partner che in qualche maniera certifichiamo sia dal punto di vista delle competenze tecnologiche sia dal punto di vista dell'affidabilità e della condivisione di alcuni principi che sono base della Rete. vorremmo anche essere il motore per aiutare queste aziende, queste realtà che possono essere società ma possono essere anche cooperative piuttosto che altro ad essere efficaci nella loro proposizione. Io credo di non dovermi dilungare troppo in questo per cui se non c'è qualche cosa di particolare lascerei la parola a chi deve entrare un po' più in dettaglio del progetto. Grazie Giancarlo, ricordo a tutti che è possibile fare delle domande sia attraverso la chat che attraverso il microfono. Ne approfitto io magari per fare subito una domanda a Giancarlo. Che cos'è che spinge degli imprenditori, comunque affermati come voi, a creare una rete di impresa? Che cos'è che vi ha mosso? Ti ho detto, come ho raccontato prima, la parte fondamentale. Allora per un imprenditore, un imprenditore è spessissimo individualista quindi riuscire a mettersi assieme a qualcuno tipicamente la parte di collaborazione e consiste nel compro un'azienda o vendo la mia azienda e poi comanda uno. In realtà in una rete non funziona esattamente così e questo devo dire, non volevo condividere ma è stata una parte comunque molto arricchente dell'esperienza di rete. Abbiamo pensato che facendo da solido saremmo comunque arrivati dove avremmo potuto arrivare forse saremmo rimasti ancora tutologi ma non potevamo avere una profondità di questo tipo. Ci ha aiutato, perché poi serve molta scommessa e molta fiducia nelle altre persone ci ha aiutato il fatto che già comunque ci conoscessimo e ci fosse una stima aziendale ma ci fosse anche una stima personale rispetto alle persone che compongono le aziende. Questo è vero in qualche maniera anche per le altre aziende che riparneranno dopo che sono parte del nostro ecosistema. Il business è importante, la realizzazione del progetto è importante ma deve essere fatto comunque con un criterio umano e di correttezza che è parte fondativa di questo. Bene, grazie mille. Mi sembra che a questo punto i valori siano assolutamente importanti per intraprendere un percorso come quello di una rete di impresa come Iobo. A questo punto lascerei la parola a Stefano Moroni, amministratore delegato della cooperativa Il Gelso che ci racconta il progetto che hanno sviluppato nel corso del precedente anno rispetto alla digitalizzazione di un servizio specifico e quindi magari ci dirà anche qual è stata la sua esperienza e quali sono i ragionamenti che a questo punto la cooperativa può fare rispetto magari a possibili innovazioni di servizi. Prego Stefano. Grazie mille Davide. Chiedo aiuto tecnico per capire se vedete correttamente la schermata delle slide che intendo presentare? Sì Stefano, si vedono correttamente. Ok perfetto, quindi vedete esclusivamente la parte della slide, perfetto. Sì, vediamo solo quella. Ok, benissimo. Allora intanto mi presento, sono l'amministratore delegato della società cooperativa Il Gelso, una società che opera ormai da più di 25 anni nel settore ecologico-ambientale su diverse province della regione Lombardia in particolar modo e eroghiamo servizi sia verso il settore pubblico che quello privato. Gistiamo impianti di rifiuti, eroghiamo servizi di raccolta porta a porta, servizi di smaltimento presso le aziende e lo facciamo ormai da molti anni. Circa un anno e mezzo fa siamo stati invitati a partecipare ad un incontro organizzato appunto da Iobo che ha pragmaticamente in qualche modo realizzato gli intenti che si è posta e siamo seduti in una tavola rotonda dove abbiamo partecipato oltre alla nostra cooperativa anche il CSMT, i rappresentanti della provincia di Brescia e di A2A Smartland e Smart City. L'intento di quell'incontro era proprio provare a ragionare insieme sulla possibilità di individuare servizi che potessero fornire ai nostri portatori di interesse un valore aggiunto. L'intento era quello di ottimizzare processi e procedure senza immaginare che poi eventualmente questo tipo di tecnologia potesse avere un eco molto più ampio alla luce in qualche modo della situazione che stiamo vivendo in questo momento. Possiamo dire di aver anticipato un attimino i tempi. avendo noi naturalmente poi un focus di attenzione molto più indirizzato verso il settore dell'ecologia con l'aiuto dei nostri interlocutori abbiamo proprio immaginato come poter rendere più performante il servizio effettuato verso i nostri clienteli quindi pubblica amministrazione e soggetti privati. L'intento era quello di ottenere di fatto due benefici. un beneficio che riguardava l'aspetto economico vediamo scusate ho un problema sulla questione della niente ok l'obiettivo era quello di diminuire i costi di servizi provare a proporre i nostri interlocutori dei servizi finalizzati più anche a un risparmio su un tema sempre molto caldo e parallelamente immaginare quale poteva essere eventualmente anche un altro obiettivo affiancato ad esso cioè la riduzione dell'impatto ambientale. Nasce quindi il desiderio davvero di immaginare un sistema che possa coniugare questi due elementi. E allora abbiamo insieme ad altre due realtà cooperative come SECOP che opera nell'ambito della gestione della segnalitica stradale ed RG45 che invece sviluppa e realizza soluzioni hardware e software per i servizi del terzo settore immaginato come uno stesso strumento potesse essere riallocato su attività che apparentemente potessero essere così diverse. Abbiamo quindi in qualche modo avanzato una serie di proposte queste proposte poi sono in qualche modo hanno trovato un humus un terreno da seminare da coltivare e quindi conseguentemente è nato il bisogno in qualche modo da parte nostra di immaginare proprio un progetto in grado di efficientare la raccolta di rifiuti speciali ed urbani con l'utilizzo di appositi cassoni o contenitori ottimizzando a sua volta i tempi di percorsi della raccolta. Quindi per cui nasce di fatto appunto insieme alle altre aziende la necessità di individuare quello che era il bisogno di ricercare dei contributi che potessero supportare la nostra idea nella fattibilità tenendo conto anche delle limitate risorse che le nostre realtà possiedono e con l'aiuto dei nostri interlocutori abbiamo quindi elaborato un progetto che abbiamo presentato al bando di Union Camere e il bando è stato particolarmente apprezzato perché si è piazzato al primo posto e è stato quindi finanziato insieme alle altre due cooperative con l'intento di realizzare di utilizzare con la stessa tecnologia azioni diverse e che quindi ha trovato effettivamente una propria credibilità quindi il progetto portato avanti in particolar modo dalla cooperativa è stato quello di efficientare appunto questo sistema di raccolta che avesse di fatto questi due elementi fondamentali un sistema che potesse rendere un po' più autonomo il servizio di raccolta e offrire contemporaneamente ai nostri portatori interlocutori un beneficio beneficio appunto sia di carattere economico che ecologico di movimentazione dei mezzi sul proprio territorio quindi entrando proprio in maniera molto più programmatica le azioni messe in atto hanno avuto lo scopo di monitorare ad esempio lo stato vuoto per pieno dei cassoni di rifiuti gli amministratori che si trovano in qualche modo a dover delegare a società terze la gestione appunto dei propri centri di raccolta o le società che spesso chiedono servizio chiave in mano al proprio interlocutore per la gestione dei propri rifiuti diciamo che il bisogno primario che nasce è quello di ottenere un servizio nel momento stesso in cui questo viene in qualche modo evidenziato quindi la rapidità di risposta del liberare lo spazio di abito la raccolta dei rifiuti perché possa essere utilizzato in forma continuativa e dall'altra parte il contenimento dei costi rispetto proprio la possibilità che questi contenitori non siano in numero infinito ma apportati nella giusta dimensione e nella giusta necessità di ogni singolo interlocutore e quindi abbiamo in qualche modo provato a dare risposta a questo bisogno emergente associando la geolocalizzazione dei mezzi per la raccolta tramite la loro sensorizzazione e nella fase soprattutto di laboratorio iniziale abbiamo gestito per la misurazione degli indicatori delle performance la copresenza della tecnologia del personale soprattutto nella fase iniziale la scelta ricaduta sul comune di Leno e insieme quindi dei nostri partner tecnologici che sono in particolar modo Adwa Smart City per la copertura appunto della rete l'Ora One su un territorio di Leno dove era già presente e attraverso i cover sistemi è stata sviluppata la sensoristica attraverso quella che è la tecnologia definitaria sensing sulla possibilità proprio di poter andare in qualche modo a realizzare un prodotto che potesse rispondere alle nostre necessità quindi attraverso il comune di Leno abbiamo capito quali potevano essere attualmente presenti determinati tipi di tecnologie simili alle nostre e ci siamo resi conto che il mercato offriva di fatto già delle tecnologie che potevano in qualche modo essere paragonabili ad essa però a differenza degli attuali la capacità da parte di area sensing è stata quella appunto di individuare un sensore che potesse in qualche modo monitorare la porzione del cassone piena in tutta la sua grandezza e non semplicemente nella parte di rilevazione dei cosiddetti sensori standard infatti come potete vedere da questa slide i sensori sono in grado di misurare soltanto una porzione del cassone i cassoni posizionati presso le aziende o presso le piattaforme ecologiche spesso hanno un punto di conferimento che è sempre lo stesso il rischio è quello proprio di avere una sorta di piramide del rifiuto dove da un lato lo abbiamo pieno da un lato invece risulta essere completamente vuoto il sensore in questo caso comunica il cassone pieno il camion esce però scopriamo poi una volta arrivati lì che invece il rifiuto poteva essere ancora conferito all'interno dello spazio adibito e però questo si tramuta in un costo per l'amministrazione e in un costo per l'ambiente perché abbiamo di fatto movimentato un mezzo sul territorio area sensing invece in qualche modo ha ribaltato attraverso quindi ascoltando di fatto le nostre esigenze questo tipo di nuova concezione che permette un'analisi su tutto il contenuto del cassone andando in qualche modo a suddividere la porzione di analisi in sei diversi comparti e quindi stabilisce anche quella che è una previsionalità rispetto allo storico che in qualche modo può essere elaborato e analizza quindi un monitoraggio diffuso conferisce migliori risultati e performance appunto sulla capacità da parte nostra di intervenire solo e quando effettivamente ce n'è bisogno questo si tramuta appunto prima di tutto nei confronti dei nostri portatori di interesse di un risparmio di costi e attraverso quello che è un sistema integrato di dati riusciamo in qualche modo a monitorare l'effettivo stato di tutti i cassoni su un determinato tipo di territorio e c'è un ulteriore obiettivo che in qualche modo ci proponiamo di effettuare e cioè quello in qualche modo di immaginare un'evoluzione diciamo così del sistema stesso dove la possibilità di sfruttare questa tecnologia l'Oruan sui diversi comuni della provincia di Brescia operando noi appunto su larga scala siamo in grado eventualmente di avere un campionamento molto elevato e l'applicabilità ad esempio dei sensori sui bidoni domestici della raccolta differenziata o non soltanto sui cassoni ma cassonetti di volumetria ridotta che sempre più spesso trovano spazio soprattutto nei soggetti privati permetterebbe una mappatura e la gestione dei contenitori sul territorio adibito appunto alla raccolta dei rifiuti con la possibilità da parte dell'automezzo di poter preleviare attraverso un sistema di multiraccolta un prelievo dello stesso rifiuto su più contenitori posizionati anche su soggetti diversi e questo naturalmente potrebbe incomportare una forte riduzione di presenza di mezzi comunque che hanno un impatto importante all'interno della viabilità dei territori anche piccoli alcune volte e la possibilità di ottimizzare davvero percorsi che hanno ricadute sugli obiettivi che ci eravamo prefissati cioè sulla questione dell'economia e sulla questione dell'ambiente io ho di fatto presentato quella che è stata la nostra esperienza in fase ancora di evoluzione ma che comunque sta trovando delle buone risposte soprattutto in termini di attenzione e di curiosità a essere coinvolti soprattutto come partner e naturalmente attraverso quella che è il supporto appunto delle realtà di A2A e di di Obo riteniamo che questo sia assolutamente fattibile in qualche modo praticabile nel percorso che ci siamo in qualche modo candidati ad effettuare io avrei concluso grazie Stefano una bellissima esperienza proprio perché è un'esperienza vera vissuta sul campo si vede una domanda mi sembra di capire che di vedere che ci sono davvero tanti spunti che giustificano la sostenibilità di un servizio come questo ora in realtà non mi risulta che ce ne sono tantissimi la tua esperienza da amministratore delegato di una cooperativa sociale com'è in questo senso perché non se ne vedono tanti di esperienza come questo perché non si vedono già tanti servizi che utilizzano questo tipo di tecnologie che permettono quindi un'efficienza dello stesso grazie trovo secondo me fondamento il fatto che oggi nel settore specifico della raccolta di rifiuti l'elemento in qualche modo che possiamo chiamare innovazione ha trovato di fatto una propria saturazione nel senso che l'innovazione oggi viene fatta sulle tecnologie già esistenti e quindi assistiamo a un'evoluzione della tipologia di mezzo il sistema di geolocalizzazione ad esempio non è di per sé nuovo perché di società che forniscono la possibilità di poter tracciare il percorso dei propri automezzi ormai il mercato è abbastanza pieno anche nelle fiere tra quella più rinomata Ecomondo che credo che quest'anno purtroppo in me non si terrà assistiamo davvero a una proliferazione di realtà di questo tipo la novità qua sta proprio nella possibilità di poter applicare questo tipo di sensoristica su contenitori anche di piccole dimensioni e per realtà come la nostra che in qualche modo trova un limite a poter immaginare invece una vera e propria innovazione a servizio appunto della sostenibilità economica ed ecologica c'è davvero una risposta pragmatica oggettiva a quelli che sono i problemi che spesso gli amministratori con i quali collaboriamo ci portano la possibilità davvero di immaginare che l'operatore un giorno possa evitare di passare all'interno di una strada immagino soprattutto quei paesi che hanno una conformazione geografica un po' articolata a paesi di montagna oppure grandi campagne perché il sensore comunica automaticamente all'operatore la non necessità di dover passare fino a quel punto di prelievo proprio perché il contenitore sta comunicando attraverso il sensore che quel rifiuto non è stato conferito o il contenitore ha ancora capacità di poter accogliere altro materiale e su larga scala questo ha un impatto importante quindi la famosa goccia ma le gocce che poi si trasformano in un oceano proprio perché le attività di raccolta sono costanti sono ripetute sono standardizzate e soprattutto sono ripetitive nel corso del tempo rispetto a una platea che viene rappresentata dall'utenza quindi davvero mi trovo rispetto all'esperienza che ho a poter in qualche modo immaginare che ci possa essere effettivamente un'innovazione di per sé diversa rispetto a quelle che sono sempre state portate oggi quasi direi in fase verticale invece questo è un allargamento di prospettiva che può coinvolgere di diverse innovazioni portate fino ad oggi grazie Stefano è sempre bello sentire una cooperativa sociale che prima di tutto ha una finalità sociale raccontare anche un'esperienza tecnologica di questo tipo a questo punto lascerei la parola ad Elisabetta Rizzi di Adware Smart City che ci racconta che ci parlerà del progetto ATG Around the Ground il più importante progetto bresciano di Smart Agriculture che vede coinvolti diversi attori del nostro territorio a partire da Coldiretti Brescia oltre a questo ci parlerà anche di gestione intelligente del verde ti lascio la parola Elisabetta prego grazie Davide oggi appunto come dicevi giustamente tu ho il piacere di parlarvi del progetto Around the Ground un use case davvero molto interessante dal punto di vista dell'agricoltura di precisione e dall'impiego dall'innovazione tecnologica a totale supporto appunto dall'agricoltura di precisione sono stati numerosi gli studi che recentemente hanno dimostrato come l'utilizzo dall'innovazione tecnologica sia un grandissimo supporto a tutte le attività agricole quindi un validissimo impiego nell'ambito agricolo la ricerca che viene fatta l'innovazione rendono possibile la realizzazione di sistemi di agricoltura di precisione grazie ai quali le aziende agricole oggi possono fare dei veri e propri interventi mirati su specifiche porzioni di terreno piuttosto che su specifiche culture e questo si è tradotto chiaramente in grossi vantaggi grossi benefici per le aziende agricole in termini proprio di risparmio della risorsa idrica che può portare addirittura ad una riduzione dei costi del 30% ma non solo anche l'ottimizzazione di risorse impiegate per i trattamenti di fitosanitari piuttosto che fertilizzanti che con l'utilizzo di strumenti di agricoltura di precisione possono vedere una riduzione di addirittura il 20 il 40% oltre a ciò anche tutto il monitoraggio dei consumi di carburante dei mezzi agricoli il fatto di poter ridurre la manodopera e ottimizzarla tutti i fattori che sfruttando quello che è il vantaggio appunto che la tecnologia rende disponibile possono tradursi in concreti benefici per le aziende agricole e il progetto ATG Around the Ground è proprio un progetto frutto di un'intensa collaborazione fra importanti player a livello proprio territoriale entrano in gioco in questo progetto la col diretti di Brescia con difesa Lombardia Nord-Est Fasternet Inexab la ditta Kobo CSMT Polo Tecnologico Noi di Adua Smart City e poi la rete impresa Iobo il progetto nasce proprio dall'esigenza di dover aumentare quella che è la sostenibilità appunto del modello agricolo italiano sfruttando le risorse innovative tecnologiche disponibili e quindi garantire all'Italia la possibilità di avere delle imprese italiane la possibilità di avere delle produzioni agricole di alta qualità cercando di tutelare quello che è diciamo l'elemento che contraddistingue la nostra produzione agricola ovvero la biodiversità e riuscire a dare quel punto di forza dal Made in Italy in tutte le strategie di internazionalizzazione proprio con lo scopo di tutelare quello che è il prodotto Made in Italy e Round the Ground è un progetto bresciano perché di fatto nasce come progetto pilota nel territorio della provincia di Brescia e vede coinvolte tre aziende vitivinicole l'azienda Perla del Garda Francesco Veroldi e la ditta Uberti e grazie all'importantissimo supporto che c'è stato in questo progetto cioè tutti i progetti di agricoltura sono vincenti nel momento in cui c'è molta sinergia fra le aziende ed è per questo che il Round the Ground ha avuto un grosso risultato proprio perché è frutto della collaborazione di tanti interlocutori ciascuno che ha dato il suo contributo e la sua esperienza in questo ambito e dicevo appunto nel progetto Around the Ground il servizio tecnico di condifesa Lombardia Nord-Est ha definito quella che era una mappatura territoriale per poter andare a caratterizzare proprio le caratteristiche pedoclimatiche e morfologiche dal territorio relativo appunto alle aziende coinvolte andare ad identificare con i vari tecnici agronomi delle aziende tutte quelle che sono le criticità quelle che erano appunto le criticità da monitorare i dati da raccogliere e quindi grazie a questo studio a questa progettazione poi è stato possibile andare a realizzare una vera e propria rete di sensori di campo sensori specifici appunto per l'agricoltura tutti collegati con la rete in radiofrequenza allora one di a2a smart city in questo modo così andare ad identificare in base al tipo di rilievo di dato da rilevare il sensore più indicato con la posizione specifica in cui andare a mettere il sensore ovviamente poi si è diciamo fatta tutta l'installazione in campo dei sensori questa è un'attività che ha coinvolto ovviamente anche è stato molto importante l'intervento degli agronomi di queste aziende agricole tutte queste attività vengono fatte in collaborazione con gli agronomi perché è con loro che poi si va a definire il posizionamento esatto del sensore per rilevare il dato corretto e quindi anche la calibrazione del dato che viene raccolto dal sensore e viene trasmesso appunto attraverso questa rete poi è chiaro che i dati che vengono raccolti sono visibili su una piattaforma apposita nella quale gli agronomi hanno la possibilità di andare a consultare i dati e quindi in base ai dati raccolti prendere delle decisioni molto importanti a livello proprio di intervento sulla coltivazione da fare sulla cultura ma non solo anche sull'irrigazione piuttosto che sul trattamento da prevedere rispetto alla coltivazione rispetto al dato raccolto quindi possiamo dire che i vantaggi che le tecnologie IoT danno diciamo in un progetto legato al mondo dell'agricoltura sono sostanzialmente in prima battuta la sostenibilità la qualità la sicurezza perché tutta quella che è la potenzialità agricola di un'azienda aumenta grazie appunto al disporre di strumenti di monitoraggio e di controllo di tracciabilità della filiera e quindi consultazione delle informazioni che vengono raccolte a supporto dell'attività agronomica l'aumento dell'efficienza e della produttività perché l'agricoltura di precisione diventa una vera e propria strategia gestionale che porta proprio al miglioramento dell'efficienza nell'utilizzo delle risorse della produttività la qualità appunto del prodotto che si va a realizzare e anche la sostenibilità della produzione per il migliore impiego delle risorse la tracciabilità e il monitoraggio dei dati perché comunque il continuo monitoraggio dei dati e la gestione digitale dei dati garantisce appunto la rintracciabilità rispetto alle produzioni e rispetto anche gli input agronomici che devono essere fatti e infine è un sostegno alle risorse in campo perché è in grado appunto di garantire una maggiore sicurezza e sostegno per le persone da un lato perché l'automazione dell'attività di raccolta dei dati dei terreni e delle culture diventa uno strumento fondamentale appunto per governare l'azienda sia dal punto di vista dell'utilizzo delle risorse che dal punto di vista della resa proprio delle coltivazioni e dei raccolti io ho concluso e ringrazio tutti per l'attenzione grazie Elisabetta una domanda sì è corretto è corretto dire che grazie a LoraOne e alla rete LoraOne oggi è possibile parlare di SmartLand assolutamente sì perché per le sue caratteristiche la rete LoraOne è una rete particolarmente abilitante per questo tipo di installazioni l'abbiamo visto anche nelle presentazioni nella presentazione dell'interlocutore che mi ha dal relatore che mi ha preceduto la rete LoraOne ha il vantaggio di poter essere impiegata in diversi ambiti che non sono solo quelli dell'agricoltura viene utilizzata in generale per gestire i servizi cosiddetti Smart appunto come dicevi tu perché per le sue caratteristiche è una rete che è in grado di trasmettere consumando poca banda infatti per la sua specificità la rete in radiofrequenza raccogliendo dati di sensori quindi dati numerici utilizza poca banda e quindi grazie a questa caratteristica è molto pervasiva quindi ha una copertura molto ampia con dei costi decisamente ridotti anche in termini di installazioni dalla rete perché non richiede comunque la realizzazione di infrastrutture di rete particolarmente onerose perfetto grazie mille Elisabetta a questo punto lascerei la parola a Alberto Bonetti responsabile dell'area project funding di CSMT che ci racconterà quelle che sono le opportunità di finanziamento rispetto a progetti di digitalizzazione prego Alberto d'accordo grazie un attimo solo che metto in in modalità a schermo intero la presentazione che penso dovreste vedere immagino sì sì albergo allora buongiorno sono Alberto Bonetti sono responsabile in CSMT dell'area project funding volevo dire due tre cosette prima di cominciare la presentazione prima di spiegarvi cosa vorrei condividere con voi questa mattina la prima la prima osservazione è la la sottolineatura di quanto questo evento voglio dire rientri come sappiamo nell'ambito insomma delle iniziative delle sfide delle opportunità che CSMT ha colto molto volentieri che erano state promosse che sono che sono promosse dalle comune di Gardone e Valtrompe nell'ambito di Officina Liberty volevo sottolineare questo perché cominciano a diventare diversi gli eventi nell'ambito dei quali promuoviamo la crescita innovativa la crescita competitiva cerchiamo di svolgere il nostro ruolo per promuovere la crescita competitiva e innovativa del territorio in particolare del territorio di Bresciano e la sfida raccolta all'interno di Officina Liberty anche l'opportunità raccolta all'interno di Officina Liberty mi sembra che stia crescendo molto in termini di opportunità contenuti progettualità e quindi anche di stimolo insomma alla crescita competitiva questo è ovviamente di grandissimo interesse per CSMT come di grandissimo interesse per i partner che oggi condividono questo tipo di evento di presentazione che all'interno di Officina Liberty promuovono soluzioni diciamo di grande impatto potenziale come abbiamo già sentito dagli interventi precedenti io racconterò due cose cercando di essere veloce sapendo che poi le slide verranno rese e condivise e quindi potranno dare possibilità di entrare insomma in maggiore dettaglio sui contenuti specifici ci parlerò di due cose uno in primo luogo parlerò anch'io di un progetto che è già stato menzionato parzialmente nelle relazioni precedenti ma che testimonia una attività concreta e molto interessante che nell'ambito di round the ground e nell'ambito anche di una iniziativa chiamata Vite 4.0 che è stata promossa in questo ambito e che ha trovato anche finanziamento da parte del legale che nell'ambito di questa iniziativa concretizza gli scenari le tecnologie le opportunità di cui abbiamo sentito parlare fino a ora in questo evento e lo sta facendo in modo concreto in modo reale poi apro una finestra sul seguito una finestra sull'opportunità che possono nascere che vogliamo che vogliamo cogliere che sono disponibili per cercare di dare ulteriore seguito a realizzazioni a progettualità in questo ambito quindi parlerò di un bando live parlerò in modo breve di un bando che è già stato menzionato prima da Stefano della cooperativa Gesù Union Camera Lombardia che è il bando che già due anni fa ha dato origine al progetto che abbiamo sentito parlare prima e che ora ha una nuova colla aperta poi parlerò in via breve molto breve di altri altri strumenti che sono crediti imposte che possono quindi cercare di supportare questo tipo di realizzazioni bene il primo punto il progetto VIT è già stato diciamo richiamato come una iniziativa pilota all'interno di round dei ground lo voglio caratterizzare con due tre slide in modo un po' più puntuale vi ricordo che è un progetto che riguarda nuovi sistemi di monitoraggio avanzato dei dati all'interno insomma di vigneti è un progetto che utilizza tecnologie IoT e Big Data è un progetto che è stato riconosciuto valido e anche supportato finanziato appunto dal Gallegarde Colli Morenici e all'interno di un bando ancora all'inizio del 2018 poi partito nel 2019 ora in pienissimo svolgimento CSMT coordina il progetto in sei partner sono quelli che ruotano già all'interno del sistema di round the ground con difesa Morenica società agricola azienda agricola Averoldi e Uber Fastnet e A2A Smart City svolgono dei ruoli molto importanti che già sono stati richiamati anche nelle interventi precedenti in termini non solo di integrazione di sistema ma anche di sviluppo dei sistemi di comunicazione di sensoristica di raccolta e trasmissione dei dati Vita 4.0 a alcuni siti dimostrativi questo è una screenshot di uno di questi presso l'azienda agricola Perla del Gard dove sono stati installati diversi sensori che rilevano diverse dimensioni legate a diversi parametri che sono legati fondamentalmente agli obiettivi del progetto che sono ovviamente quella di promuovere un rapporto costi benefici smart di introdurre sistemi tecnologici che siano sufficientemente standardizzati per poterne permettere la scalabilità la replicabilità su territori più ampi una volta che è stato dimostrato quanto questo tipo di realtà impattino per quanto riguarda la 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 performance la capacità di controllo la capacità di programmazione di operatività delle aziende agricole che sono coinvolte ovviamente c'è anche una una necessità di crescita di competenza e anche di utilizzo di queste tecnologie in un ambito che in modo storico ne ha fatto uso in modo limitato bene cosa ci si attende cosa stiamo dimostrando il progetto come ho detto è in corso appena finito il primo anno finirà maggio dell'anno prossimo andremo a documentare e a quantificare a indicare quali saranno gli impatti in termini di miglioramento della qualità della quantità del raccolto di riduzione di danni di insorgimento di malattie infettive e di buone pratiche in genere e anche la loro potenziale replicabilità questo è il motivo per il quale abbiamo ottenuto un finanziamento che non è tanto mirato alle singole aziende che erano coinvolte ma era ed è mirato alla realizzazione di pratiche che ci si attende siano buone pratiche di dimostrazione di impatti che siano di stimolo perché queste pratiche vengano replicate in modo più ampio sul territorio che quindi diano un impatto e un effetto moltiplicatore importante questa è la prima parte e quindi abbiamo visto e lo rivedremo anche negli eventi che andremo a organizzare in seguito per raccontare gli impatti che saranno le potenzialità dei sistemi legati alla smart agriculture sulla quale il round the ground fa un perno in modo importante adesso vediamo in via breve in modo abbastanza veloce alcune opportunità di finanziamento che sono oggi attive e proprio in questo tipo di ambito e che sono disponibili per raccogliere progettualità applicazioni e innovazioni che sono molto simili insomma a quelle che sono state presentate che sono oggetto del nostro incontro di oggi il primo opportunità è il bando life un bando abbastanza storico un bando molto importante un bando che promuove progetti che abbiano importante impatto ambientale o di impatto anche sul clima ovvero che tutta la parte di agricoltura ha a che fare con entrambi gli argomenti con entrambi i sottoprogrammi life life è un programma di origine europea che mette in competizione la bella distribuisce budget abbastanza importanti la call che è aperta ora a un budget di 450 milioni di euro quasi mezzo miliardo di euro che appunto verranno erogati per progetti che abbiano un importante impatto di tipo ambientale o sulla o sulla mitigazione dei cambiamenti climatici o l'utilizzo del suolo l'utilizzo dell'acqua e argomenti di questo genere cosa finanzia finanzia progetti di diverso genere perché ci sono quelli più ambiziosi sono i progetti pilota quindi dove si applicano delle tecnologie che sono sono lo stato dell'arte vanno anche magari vogliono anche andare oltre che vogliono essere sperimentate sulla base delle quali possono essere sviluppati progetti pilota che dimostrano vantaggi e impatti ambientali importanti ci possono anche essere progetti dimostrativi e quindi con una capacità innovativa magari meno importante possono essere tecnologie già note di per sé ma non dimostrate con una scala sufficientemente ampia per 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 testimoniarle il il valore per metterne quindi una applicabilità in senso più ampio ci sono delle buone pratiche che ancora una volta sono progetti abbastanza simili dove ci sono metodologie che tecnologie ancora note ma che sono applicate con metodologie diciamo più prestanti quindi all'avanguardia rispetto allo stato dell'arte poi ci sono anche attività di sensibilizzazione di informazione di divulgazione di buone pratiche quindi si va insomma dalla dimostrazione in progetti pilota fino all'informazione alla sensibilizzazione su pratiche che hanno un buon impatto ambientale i temi sono vari non li leggo sono sono quelli ampi quelli tipici dell'ambiente quindi un utilizzo delle acque dei rifiuti un'economia circolare un sfruttamento utilizzo dal suolo della biodiversità che siano virtuosi rispetto agli impatti ambientali rispetto stato dell'arte attuale costi sono un progetto è un bando che offre contributi a fondo perso a fronte di costi che sono quelli che tipicamente sono necessari per sviluppare progetti di questo genere quindi dei costi del personale dell'entità che richiedono questi finanziamenti che possono essere di varissima di varia natura dalle aziende che utilizzano le tecnologie a quelle che le mettono in pratica agli enti che sono preposti a cercare di promuoverne l'uso comunque costi costi di infrastrutture attrezzature prototipi tra l'altro con una apertura maggiore nel bando di quest'anno rispetto agli anni passati Life esiste da 25 anni quindi è un bando molto ben noto ma che ha avuto qualche evoluzione nelle proprie caratteristiche per esempio quest'anno c'è un accoglimento al 100% dei costi che erano in passato invece soggetti a ammortamento questo dà ancora una maggiore appetibilità di questo tipo di bando di questo tipo di finanziamento ovviamente anche servizi e altri costi che possono essere utili all'interno cosa offre il bando offre offre la possibilità di competere per ottenere il 55% a contributo fondo perso dei costi che ho menzionato prima tra l'altro una percentuale che nel caso di costi di progetti con natura specifica può anche arrivare fino al 75% ma questi sono dettagli comunque la percentuale base insomma è quella del 55% dei costi totali ci sono due linee all'interno di questo bando life la prima quella di tipo ambientale scade a luglio quindi a il 14 di luglio a metà di luglio a metà del mese prossimo in una prima fase una preproposa in una proposta breve sintetica e che poi potrà trovare una proposta piena all'inizio dell'anno prossimo life non è un bando che riguarda o che guarda solo al domani è un bando che richiede una certa strategia visto che sono progetti che partiranno nell'estate dell'anno prossimo che durano tipicamente dai due ai tre anni sono progetti importanti grossi anche come budget si parla di budget in modo tipico da che so da 1 a 3 4 milioni di euro anche qua anche più di questo non ci sono dei limiti specifici c'è una dimensione tipica dei progetti che ruota nell'ambito che vi ho indicato c'è anche una seconda serie di progetti live che invece avrà una scadenza a ottobre a ottobre di quest'anno il 6 ottobre e sono quei progetti che riguardano il clima che magari parlano di emissioni parlano di utilizzo suolo parlano di agricoltura che in linea di massima è un campo che include diversi aspetti climatici perché include l'utilizzo delle acque l'utilizzo del suolo l'utilizzo di elementi chimici insomma che ruotano sul suolo e la capacità del sistema agricolo di gestire le sfide che anche l'ambito climatico ottiene in questo caso la scadenza è un po' più in là il 6 ottobre per una proposta invece fatta in una singola stage quindi una full proposta piena che si possa candidare all'ottenimento dei contributi che ho visto che ho menzionato prima chiudo con il bando live ora parliamo in via breve di una seconda opportunità scaliamo questa volta scaliamo non parliamo di bando europeo scaliamo a livello regione lombardia scaliamo anche in termini di ambizione se vogliamo non parliamo più di centinaia o milioni di euro parliamo di cifre più contenute ma comunque parliamo di un bando interessante il bando infatti è già stato menzionato da Stefano insomma della cooperativa il Gesso è il bando Union Camere di regione Lombardia è lo stesso bando appunto che ha promosso e che ha visto il progetto coordinato o comunque facilitato da CSMT con le cooperative il Gesso RG e Solco classificasse appunto come ha detto Stefano prima il primo posto dell'ultimo bando bene ora il bando è aperto anche quest'anno cosa finanzia è un bando che finanzia più in generale le soluzioni di tipo digitale quindi non solo nell'ambito agricolo ma in genere quindi e sviluppa prodotti e servizi innovativi che utilizzino tecnologie 4.0 nel quale rientra anche l'agricoltura smart l'agricoltura 4.0 questa volta è un bando indirizzato a micro piccole e medie imprese quindi le grandi imprese non sono non possono beneficiare di questi contributi mentre invece lo potevano e lo possano nell'ambito del bando live di cui ho parlato prima si tratta di trasferire delle soluzioni importanti innovative in area 4.0 sui prodotti in sistemi in aziende che vogliono utilizzare queste ci sono anche alcune linee che sono considerate più nobili ovviamente o meglio che avranno una qualche premialità in sé sono quelle che accompagnano l'emergenza covid e quelle che accompagnano il green deal insomma quindi le attività sostenibili dal punto di vista ambientale quindi siamo perfettamente in tema bene in due parole cosa vogliono sviluppare gli interventi ammissibili devono sviluppare sistemi prodotti servizi che fanno perno su una serie di tecnologie 4.0 la serie di tecnologie è vastissima qui ne vedete alcuni ne vedete listate alcune si parta da prototipazione rapida realtà virtuale interfaccia uomo macchina sistemi cyber fisici robotica avanzata fino a sistemi AI IoT come sono quelli di cui abbiamo parlato oggi insomma in cui ci sono c'è un internet delle cose quindi c'è una raccolta di dati da da diversi punti e questi vengono poi usati in modo intelligente si passa anche a utilizzare eventualmente cloud cyber sicurezza big data analisi insomma c'è un po' di tutto come vedete dal block chain l'intelligenza artificiale e ovvero che questo è l'ambito molto ampio un progetto deve poter rientrare in uno di questi di questi temi e vengono completati anche da altri temi che sono quelli abbastanza tipici sono quelli dell'e-commerce dell'EDI delle tecnologie internet basate su internet insomma e che accompagnano già in modo più consolidato le attività digitali questi sono gli ambiti cosa offre siamo appunto in una scala più più piccola ma comunque una scala di un certo interesse offrono contributi anche in questo caso a fondo perso per il 50% dei costi con un massimo contributo di 50.000 euro quindi questa è la dimensione massima che il bando Union Camera offre che tipo di costi di costi di vario genere dai costi di personale attrezzature consulenze formazione alcuni di questi corsi sono legati a una definizione di fornitori qualificati per esempio c'è se mettiamo di questi ma lo sono anche le grandi imprese come a 2 a Smart City lo sono anche le aziende diciamo le start up innovative comunque ci sono una serie di profilazione che i fornitori devono possedere ma sono profilazioni comunque abbastanza ampie le scadenze siamo agli sgoccioli per chi ha interesse sul bando Union Camera chiude a fine di questo mese grazie al cielo non è una non è una procedura particolarmente complicata complessa sia dal punto di vista progettuale che di altro quindi è una procedura è un progetto che insomma si può costruire nell'arco di qualche giorno se si hanno le idee chiare comunque si devono presentare le proposte entro il 30 di giugno i costi sono elegibili già da marzo di quest'anno fino a luglio dell'anno prossimo è una procedura di tipo valutativo un po' come lo è il live anche se in termini più ampi cioè vengono premiati i progetti che avranno il punteggio maggiore quindi hanno che hanno la qualità più più alta come ho detto noi abbiamo una buona confidenza se non fosse altro insomma per l'esito dell'ultimo bando Union Camera che su più di 150 progetti ha visto il nostro classificarsi come abbiamo getto più di una volta prima bene l'ultimo tema che veramente scorro in modo veloce che sto prendendo più tempo di quanto avessi dovuto però voglio menzionarli è un tema ben noto ma dove si parla di utilizzo di queste tecnologie 4.0 anche in ambito agricolo eccetera non si può non ricordare il fatto che esistono anche non solo i contributi a fondo perso di tipo europeo ne abbiamo parlato prima non solo quelli di tipo regionale esistono anche crediti di imposta quindi interventi di tipo nazionale che non sono dei contributi in sé ma che ancora meglio vanno a toccare insomma il peso in termini fiscali in funzione di investimenti in settori 4.0 questi sono i vari sono i cinque titoli che vedete che proprio scorro in modo veloce poi le slide le avrete se vi vorrete leggere meglio il primo è abbastanza noto però è sempre meglio ricordarlo anche perché ha preso una caratteristica nel 2020 un attimo diversa rispetto al passato è iniziato nel 2015 il credito di imposta ricerca e sviluppo quindi dice che per tecnologie 4.0 anche simili a quelle di cui abbiamo parlato in questo incontro si possono si può accedere a un credito di imposta che magari è meno generoso che nel passato ma che comunque è abbastanza importante quindi parliamo di una freccia dal 6 al 12% dei costi che vengono impiegati in questa innovazione in termini 4.0 le percentuali si sono abbassate rispetto al passato ma si è ampliata si è ampliato lo spettro perché ora sono incluse anche le innovazioni ecco non solo la ricerca in sé quindi anche l'innovare all'interno delle aziende con delle metodologie che in quella azienda sono originali sono nuove questi sono temi che possono essere sostenuti dal credito di imposta di ricerca e sviluppo non solo è una percentuale che viene calcolata in modo assoluto sugli investimenti fatti senza scontare medie di investimenti di periodi passati cosa che accadeva fino all'anno scorso questo è il primo tipo di credito di imposta che ovviamente merita e ha bisogno di una chiamiamola certificazione ma è più corretto dire di un assessment di una relazione tecnica di supporto che esemplifichi all'ente che vorrà fare controlli in seguito che in questo caso l'agenzia delle entrate che è quel tipo di attività per il quale si vuole accedere al credito di imposta siano effettivamente in linea con quelle che sono attese in CSM ti diamo questo tipo di supporto per fare un assessment tecnico di accompagnamento al credito di imposta il secondo tipo è ben noto è quello che si chiamava fino all'anno scorso di iperammortamento anche questo per aziende che vogliono applicare tecnologia 4.0 e vogliono investire in macchinari ovviamente è un elemento molto importante sappiamo benissimo che è molto impattante insomma arriva al 40% della quota dell'investimento fatto in tecnologie appunto in macchinari nuovi di 4.0 e anche in questo caso c'è bisogno di un assessment tecnico anzi ancora meglio una perizia tecnica che attesti che quell'investimento in tecnologie 4.0 risponda ai requisiti del credito di imposta CSMTC mette a disposizione anche per questo gli ultimi punti sono un credito di imposta sulla formazione perché le tecnologie sono una cosa fantastica sono un elemento agevolativo importante ma poi ci vuole una formazione opportuna del personale che utilizzi nelle aziende le tecnologie che possiamo andare a sperimentare installare o offrire alle aziende in sé il credito di imposta facilita questo dalla possibilità per formazione per attività di formazione di personale delle aziende che devono poi gestire questi sistemi questi sensori queste reti questi sistemi 4.0 di formarsi e di poter recuperare quote importanti dal 30 fino al 50% dei costi del personale in credito di imposta per attività di formazione gli ultimi due punti sono li menziono solo perché fanno parte del pacchetto credito di imposta quindi la possibilità di un'internazionalizzazione rispetto alle aziende che utilizzano tecnologie 4.0 e anche la parte di comunicazione di pubblicità quindi aziende che utilizzano tecnologie di questo genere che vogliono promuovere i loro sistemi i loro prodotti o la loro realtà produttiva perché hanno utilizzato le tecnologie o le proprie soluzioni perché sono dei fornitori possono fare uso del credito di imposta quest'anno sull'attività di comunicazione di pubblicità che è un credito di imposta non banale perché arriva comunque al 30% dei costi che si assumono durante l'anno 2020 rispetto a questo tipo di investimenti io sono stato veloce quanto ho potuto ma ho voluto cercare di dare insomma sia un messaggio di applicazione di sistemi in sé e anche di opportunità europee regionali e nazionali che possono supportare il tipo di applicazione di tecnologie che cerchiamo nell'ambito del progetto Vite 4.0 e anche comunque il round the ground in genere e se vogliamo all'interno di officine Liberty in termini ancora più ampi promuovere in tutti i modi resto comunque a disposizione se ci sono domande se no comunque dettagli maggiori li trovate nella copia delle slide che verranno distribuite grazie grazie Alberto siamo in chiusura se ci sono domande fatemele avere nel giro di poco intanto comunque ringrazio Alberto ringrazio Alberto per l'intervento sicuramente dal momento in cui a questo punto c'è un'idea e le si vuole dare le gambe la parte di finanza agevolata e contributi e progettazione a più livelli diventa veramente fondamentale non vedo arrivare a nessun tipo di domanda vi ricordo che il webinar è stato registrato lo trovate disponibile sul canale youtube del CSMT a questo punto vi ringrazio vi saluto buona giornata grazie presto